I think you got me good, I think you got me good, who else should be good? Via! Saranno sicuramente i fuochi d'artificio sul ponte del Golden Gate oggi. Gira su se stesso come una trottola. Mandata laterale da paura. Ecco il Signore degli Anelli. È stata dura ma ce l'ha fatta. È a traguardo. Grazie a tutti.